L'Europa ha chiesto a tutti i suoi Paesi membri di creare uno sportello generalizzato contro le violenze di qualsiasi tipo e genere. Oggi l'Italia risulta essere ancora inadempiente. Le città metropolitane rappresentano uno strumento per il governo, per la capacità proprio di poter adoperarsi e evitare quelle sanzioni europee sulle inadempienze legate proprio a questo sportello unico per la gestione delle violenze di ogni tipo e genere. Le città metropolitane sono pronte, le città metropolitane di Napoli, Roma, ma anche Milano, sono tutte pronte a portare avanti questo tipo di iniziativa. E' un'opportunità non soltanto per lo Stato ma per i cittadini, uno sportello generalista che indirizzi sulle specifiche competenze all'interno delle nostre associazioni che hanno già un ruolo e sono già conosciute dalla popolazione.